come mi piace prenderti quando arrivi da là dal nulla perché là dietro non si sa cosa c'è ragazzi io lavoro qui per Simo per Marzio Marco da anni ma io là dietro non sono mai andato non so cosa c'è c'è la nostra meravigliosa impiegata si chiama Edith se è nascosta è un po' timida ciao Edith saluta saluta vedete là c'è tutto un mondo a parte dietro il bancone c'è il mondo di quelli che lavorano veramente c'è il mondo di quark esatto ci sono le donne il pilastro della società se fosse per noi andrebbe tutto a catafare meno male che ci sono loro dietro la regia occulta da dove cominci? facciamo gli scooter no? facciamo io se tu tu comandi io ti seguo sì facciamo guarda partiamo da qua guarda che spettacolo guarda 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 questo è particolare il Peugeot tu lo sapevi che esisteva? sì mi sono già imbattuto in uno ma veramente? sì questo colore magari lui questi sono rari eh eh sì rarissimi e te lo sai alcapparrato? siamo riusciti a ritirarne uno che è di un nostro cliente che lavora qua di dietro e sostanzialmente voglio dire lo styling ci ricorda qualche cosa di ondesco no? un pochino sì un pochino sì e lui comunque alla fine ha optato per comprare quell'onda che un po' gli assom... come hai fatto a capire? ma sei di una pespicaccia mi lasci sempre senza parole mister arguto e quindi niente abbiamo questo meraviglioso Peugeot XP 400 seminuovo del 2023 con appena 4000 km percorsi ma soprattutto tenuto maniacalmente bene e tutto accessoriato perché il nostro amico gli ha montato il variatore lo scarico Arov furbo non aggiungo altro a buon intendo pochino e il bauletto vedete da della Shad in tinta con schienalino e quant'altro i paracolpi laterali questi qua sono la borsa della Givi con i fari fendi nebbia e poi gli ha messo anche questi specchietti stile un po' custom però il cromato tutto sommato non ci sta male vabbè lo specchietto direi che secondo me si può anche cambiare abbiamo tutti i pezzi originali ovviamente però guarda che legano con le pedane laterali senti lo faccio rivedere ma potrebbe essere motivo per non comprarlo questo specchietto fa cagare diciamolo lo cambieremo al più presto scusa mi piace essere schietto 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 vedete franco voi lo seguite perché lo seguite franco perché lui non riesce a non dire quello che pensa esatto non ho finito potete rendervi conto che lui è pagato per aiutarmi a vendere le moto e questo poi è la verità e il risultato lo specchietto lo devi togliere niente lo devo togliere lo specchietto vabbè lo toglierò poi dopo te lo dico io dove è ne lo so vabbè fa parte del gioco lo specchietto vabbè comunque la moto è nuova è una moto tutto sommato ok va bene è un po' ispirata all'XDV non ci sta però è fatta bene guarda ha i raggi tangenziali con i tubeless e poi comunque questo monocenerico 400 per chi la usa prettamente magari in città e fa turismo corto medio raggio piuttosto che prende un 750 potrebbe anche essere una scelta intelligente comunque mi piace mi affascina ha anche questo ammortizzatore a vista mi ha fatto vedere guarda che roba scusami arrivo con l'ammortizzatore posteriore eh vedo non vedo velato nascosto nella carrozzeria va bene Peugeot XP 400 2023 6.400 euro più il passaggio il prezzo è buonissimo eh costa tantissimo questa moto nuova ha un prezzo di listino veramente si è elevato e in più è anche accessoriato quindi io credo che l'abbia pagato qualcosa come 9.200 9.300 più gli specchietti a questa cifra è già 1.000 euro solo di specchietti a questa cifra ci sta comunque gli specchietti se lo comprate non ve li do perché li devo regalare a Franco che li ammira tanto se li metto sul C1 e li metterà sul C1 poi abbiamo il Maxime sempre 400 questo qui invece addirittura pensate è un 2011 quindi decisamente qualche annetto ce l'ha ma ha percorso 18.000 chilometri quindi praticamente le neuve 2.400 euro è un conto esposizione direi niente da dire molto ben tenuto questo è ancora Euro 3 per cui è ancora circolabile anche a Milano questo qua è circolabile a Milano fino all'ottobre 2028 te lo dico perché io il C1 ce li ho tutti omologati a Euro 3 per cui se al 28 si andranno qui non ci leveremo dalle balle con il C1 fino a ottobre 2028 e questo ha molto senso al 2004 cosa compra? onestissimo guarda il prezzo è ottimo e la moda è molto ben tenuta insomma se non abbiamo grandi pretese di fare chissà viaggi di che genere tutto sommato è comodo e per fare anche avanti e indietro quotidiano lavorativo se si hanno dei pendolari e tutto guarda che poltrona voglio dire viaggiamo in gran classe in gran comfort come anche viaggeremo in gran comfort con un Sv T400 questo addirittura è bicilindrico e quindi se abbiamo diciamo così una prevalenza di tragitti extraurbani o magari addirittura autostradali questo è il miglior scooter da questo punto di vista a livello di scooter confortevoli per chi guarda proprio il comfort la protezione aerodinamica la posizione in sella e tutto questo qua in autostrada è veramente una poltrona viaggiante e il motore non lo sentiamo neanche girare perché il bicilindrico Honda 400 è praticamente un tappeto volante non si sentono vibrazioni risponde molto bene e quindi nei tragitti autostradali lo super consiglio pensate che questo qui aveva addirittura per chi proprio lo usa diciamo velocità di cosciera abbastanza elevate aveva il bauletto posteriore con la piastra flottante ah ok quindi quel sistema lì si chiamava moving system un sistema brevettato della Honda quindi la piastra praticamente lascia il bauletto libero di muoversi in senso trasversale quindi quando viene investito dalle turbolenze aerodinamiche anziché scuotere la moto facendo ondeggiare uscillare il manubrio quindi dando fastidio alla stabilità alla rigore della traiettoria il bauletto è libero di muoversi di basculare leggermente e quindi la moto comunque va dritta come un fuso questi sono brevetti Honda ragazzi robe che c'è le sognate tecnologie c'è fuori dal mondo del 2010 è no posso dire che c'è 18.000 km anche lui uguale identico al Maxime quindi ci portiamo a casa delle moto molto molto fresche pochi soldi quindi un parabrezione altissimo che copre di brutto come diceva il ghezzone il papà del marzo poca spesa e tanta resa esatto e poi abbiamo anche guardate dalla parte di là adesso Franco scavalca con la sua agilità tipica del tennista di una volta potete vedere in quale ah bastardo vado di là vai di là in fondo non sono mica Fleximan ah no Fleximan è quello che tira Giulia un po' vero l'integra bello eccola qua l'integra 750 del 2018 questa qui è già Euro 4 perché è la versione aggiornata la riconoscete dallo scarico diverso perché quella precedente rotella ha lo scarico cilindrico cromato invece questo qua ha questo design particolare col coperchietto anticalore diciamo satinato e questa qui Euro 4 è un 2018 con 29.000 km col suo bauletto originale con i fari a led moto assolutamente adatta a chi macina tantissimi chilometri perché ha dei costi manutentivi molto molto bassi e quindi è una moto intelligente per chi deve usarla veramente da battaglia costa 7.200 Euro valutiamo anche la permuta tranquillamente se non avete la permuta venite a cuor leggero che ne parliamo insomma non siamo fiscali no? per quanto riguarda le trattative siamo abbastanza morbidi ma non mi che la faccio alla fiscale l'importante è che non avete cioè ma la faccio alla fiscale Franco è mattina presto fai bravo non essere così ti ricordo che mi hai fatto venire anche ieri ma hai mandato via volevo solo dirti è arrivato un camion con 40 scooter bello tu ti brichi con il bauletto anche col bauletto ecco insomma hai fatto perdere il film no adesso c'è il T-Max ah no stavo dicendo venite soprattutto se non avete la permuta e noi discuteremo del prezzo ovviamente questo se non avete un C1 da dare in permuta perché nel caso dei Bobbiese che hanno il C1 da dare in permuta vi avrete trattati malissimo ovviamente senza possibilità di appello alcuna questo è un T-Max sempre del 2018 sempre Euro 4 anche lui quindi qui andiamo tranquillamente al 2030 27.000 km 8.700 euro questo è per gli animi un pochino più sportivelli che amano lo scooter per andare sia che avrete indietro dal lavoro ma che poi sabato e domenica magari si vogliono anche divertire un pochettino sulle stradine di montagna fate i bravi però fate i bravi non fate come Simone fate i bravi voi fate i bravi non fate come il Bobbiese che intasa con C1 a 30 anni con C1 con i camici che mi sputano in testa mentre mi sorpassano questo qui è sempre un 400 ed è un exciting pensate addirittura del 2023 anche lui con appena 4.400 km qui ovviamente siamo addirittura sull'EU5 ABS e quant'altro solamente 5.900 euro vi portate a casa un mezzo praticamente direi nuovo ha anche il baulettino con lo schienalino originale della Kinko ha anche l'antifurto elettronico il parabrezza è bello alto e quindi sempre il mezzo adattissimo per chi deve fare sia un pochettino di turismo ma anche andare avanti e indietro casa lavoro lavoro casa ce ne sono degli altri sempre sul 400 l'exciting del 2016 solo 29.000 km 3500 euro appena quindi praticamente costa di meno di un SH 125 però vabbè avreste un bel 400 che vi potrebbe aiutare anche nel turismo del fine settimana stesso vale per l'Xmax 400 2021 questo qua anche lui è già Euro 4 15.000 km appena 5.300 euro sono tutti garantiti un anno dalla motostare tutto il nostro usato sempre Kinko sempre 2016 downtown 350 48.000 km non fatevi spaventare perché questi qui sono veramente robusti non come il C1 questi qui veramente durano una vita questi scooter qua hanno l'affidabilità quasi di una onda questi Kinko devo dire qui lo dico qui lo nego però sono veramente vanno veramente bene è difficile riscontrare problemi tecnici su questi scooter 2500 euro solamente neanche una bicicletta elettrica e vi portate a casa un bel downtown 350 bello comodoso anche lui fai vedere che bel sellone Frank bello e qui siamo al record di chilometraggio al contrario del 2006 pensate a questo Forza 250 che è del mio amico Imerio questo qui ha percorso in tutti questi anni solamente 13.000 km scarsi quindi veramente uno scooter semi nuovo quasi in tonso questi qui erano bellini perché erano fabbricati in Giappone per il mercato orientale che io sappia addirittura in Europa li vendevano quasi in perdita giusto no? per coprire questa fascia di mercato però sono veicoli veramente costruiti con un livello di finitura di materiali dimmi se quella sella lì non ti fa bisogno di sederti e di andare è vero o no? questo ragazzi è l'erede del CN te lo ricordi? il CN 250 cioè uno fuori parcheggiato esatto e con solo 1.900 euro vi portate a casa un oggettino che comunque per finiture e quant'altro è veramente amante pensate che aveva già il sistema keyless quindi la smart key nel 2006 nel 2005 quando è nato aveva già la smart key in Giappone noi ci siamo arrivati un pochettino dopo sì è un euro due quindi su Milano abbiamo un'autonomia ancora di un anno e mezzo però ovviamente se avete la casa al mare o se lo volete portare fuori questa è una moto che può durare ancora tanti esatto ma si potrebbe prendere anche su Milano per un anno e mezzo poi tra un anno e mezzo lo destini da un'altra parte perché ma quella cifra lì col mezzo che è è impeccato per lasciarlo lì questi sono indistruttibili Beverly 300 questo è del 2015 34.000 km ma tenuto veramente molto bene con la sua bella livrea opaca 2650 euro Pipolone 300 GT 2017 questo è un ABS ed è già un euro 4 quindi con questo qua stiamo tranquilli per un bel po' di tempo 36.000 km 2750 euro col bollettino e qui abbiamo gli SH gli SH 300 e 350 quindi questa qui è la serie diciamo fino a 2019 2020 2021 è nato il 350 che è questo modello aggiornato che vedete un po' più cicciottino devo dire che esteticamente una buona fetta della nostra clientela è ancora legata e affezionata al modello precedente che quindi è ancora un discreto appeal nel mercato soprattutto queste versioni qua colorazione sport questi opachi con le finiture rosse la cucitura rossa sulla sella e quant'altro questo qua della penultima serie è proprio l'ultimo che avevano fatto lo riconosciamo perché ha già il controllo di trazione elettronico e ha già il bauletto smart key quindi anche il bauletto si apre senza chiave molto comodo questo in particolare un 2019 ha anche il parabrezza maggiorato della Givi ovviamente è già un euro 4 3.900 euro tenuto molto bene manutenuto sempre onda gommato nuovo bello scooter per quanto riguarda la serie 350 insisto su questo aspetto non ho ancora terminato le colorazioni 2023 adesso sono arrivate le 2024 quindi ho il 2023 in offerta 5,490 più in matricolazione il bianco me ne sono rimasti ancora 3 o 4 e 100 euro in più l'argento opaco parliamo di scooter nuovi con 6 anni di garanzia e quindi per questo motivo in questo momento l'usato perde un po' di appeal comunque i prezzi sono leggermente ribasso 4.700 il 2021 5.100 questo sport 2022 che però è un colore che non fanno più ed è un colore molto amato questo falcon grey questa combinazione sport su un euro opaco e il grigio falcon grey è rimasto nel cuore dei nostri clienti e quindi è un prodottino molto interessante ricordiamolo in garanzia fino a settembre 2028 perché qui c'è la garanzia ufficiale di Honda ovviamente macchine tutte euro 5 queste qua parliamo del 350 sempre Vespetta 150 2006 quindi sicuramente un oggettino magari non esposto per il cliente che la usa per il commuting urbano a Milano questa magari da portare al mare da tenere no? come mezzo di spostamento da vacanza o magari chi può caricarla sul camper non può girare ancora una Milano? sì 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 è sempre un euro 2 metto la battaglia ci dicono una Vespa 1.400 cosa prende? abbiamo ancora un anno e mezzo di autonomia allora no prima di fare una bella battaglia a Milano sempre stesso ragionamento sono mezzi che comunque se anche nelle grandi città un domani avremo qualche limitazione perché alla Casamare montagna il camper quant'altro sono sempre interessanti perché comunque hanno ancora tanto da dare voglio dire la garanzia di un anno non ve la toglie nessuno e qui veniamo sai al clou dello scooterismo milanese l'SH 125 questa è la famosa serie 2009-2012 quindi la prima con il doppio disco del freno erano quelli che andavano più forte quindi sono molto amati si è il cammina di brutto si perché i modelli poi aggiornati che hanno fatto dopo il motore ha perso qualche cosina dal punto di vista proprio dell'accelerazione questi qui sono quelli che hanno un po' più di appeal un po' più di adrenalina diciamo collegata alla manopola dell'acceleratore quindi questi sicuramente su Milano sono ancora molto attuali sono ancora mezzi assolutamente interessanti questi erano Euro 3 un 2009 con 46.000 km ma tenuto molto bene a livello meccanico va veramente molto bene 1750 euro col suo baulettino originale occhio agli SH che anche se sono vecchi ve li fregano lo stesso legateli sempre basta chiuderli oppure lo porti su in casa mi raccomando per quanto riguarda gli scooter io direi franco che abbiamo finito facciamo sempre comunque vedere gli SH in offerta visto che li abbiamo citati ecco vedete qua i 350 i colori 2024 qui sulla vostra sinistra e sulla destra abbiamo ancora qualche bianco e qualche sport argento opaco molto molto bello e questi sono in promozione come vi dicevo 5,490 5,590 più immatricolazione non fateveli scappare perché il prezzo è interessante e sono moto nuove va bene hai detto tutto facciamo le moto ci vediamo in un altro video beh sì devo sopportarti anche in un altro video non vuoi mica fare moto e scooter tutti nello stesso video posso farti le moto le possiamo fare male cioè senza inquadrarle bene no va bene facciamo così facciamo male te lo meriti signori il caffè costa 60 ed è un brutto gesto non sapendo che costa 60 e non ti restituisci se ne hai fucciati no perché ne vuole altri 10 esatto io non li ho eh però neanche Simone qui mi state veramente ciurlando nel manico ciao caffè ci vediamo al video delle macchine delle macchine ah no faccio io il video eh aspetta tu parli e io riprendo hai visto che bello eh? è lui sì 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 non si vede più ciao Simo ci vediamo è elettrico ciao ciao ciao